Io sono in campagna elettorale dal 31 maggio 2011, siamo ai giorni d'oggi, siamo pronti per ripartire da dove ci eravamo lasciati, una lista civica indipendente, motto da solo contro tutti, nel senso che loro sono il vecchio stravecchio, sono un altro che l'essenza della partitocrazia. Noi riteniamo, senza falsa modestia, essere qualcosa di nuovo, di provare a ripartire da zero. Quindi, svingolati dai partiti, svingolati dai coalizioni, svingolati da tutti, si riparte da zero. Cosa dite ai cittadini di Francavilla? Aspettate e leggerete tutto sul nostro programma che ci sarà. Sarà un programma alternativo ma in tutti i sensi. Fuori le vecchie logiche, fuori i poteri forti di Francavilla, saranno messi al bando, si ripartirà con nuove energie, con ragazzi dai 20 ai 25 anni in età media. Il nostro obiettivo è quello di formare un'organizzazione stabile che prosegue un po' e poi il discorso che abbiamo avuto, come lei ben sa, siamo fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Quindi, dopo questa delusione, vogliamo attuare quello che di fatto è stato il nostro primo obiettivo, cioè quello di portare una partecipazione circolare dei cittadini che si aggregano intorno, in questo caso, a Alternativa Libera. Saranno tutte decisioni consigliari e portate attraverso gli strumenti elettronici che sono quelli di Synapse e Airesis, che sono per statuto fruibili da tutti gli associati e anche associazioni che si vogliono in qualche modo avvicinare.